I've been loving you, the best I can, the best I can Buona settimana a tutti! Nei giorni scorsi qui da me ha fatto un po' più fresco e meno male, anche qui meno male avevo finito i ventilatori E voi amici come state? Voglio subito ringraziarvi per tutti i meravigliosi commenti, anche troppo Grazie comunque che condividete con me le vostre esperienze e i vostri successi nello stare bene, naturalmente Oggi in particolare saluto Erika che mi ha chiesto di essere salutata Ciao Erika, come stai? Grazie per tutti i tuoi commenti e per le tue condivisioni e i tuoi mi piace Lo dico sempre a tutti, per partecipare alle attività del canale è facile, basta iscriversi con un click così E attivate la campanella delle notifiche Così YouTube vi avvisa quando escono i miei nuovi video ogni settimana E questa settimana che nuovi video farai? Allora, mercoledì voglio parlare ancora di capelli In tanti mi avete scritto che apprezzate l'argomento E allora voglio vedere con voi quali sono i tagli migliori per il proprio viso e per la spiaggia Non dovrò mica stare ore davanti allo specchio per farmi l'acconciatura Ho un appuntamento, sai? No, di certo, anch'io quando guardo le riviste vedo molti tagli che vanno bene solo per le modelle E in quel momento, quando devono fare il servizio fotografico Noi vedremo i tagli giusti, facili da fare, da mantenere per essere sempre trendy in ogni momento E per essere anche sani eppure abbronzati Venerdì vi descriverò i migliori cibi che favoriscono l'abbronzatura E soprattutto quando e come è meglio mangiarli Poi ancora un video sabato, altri semplici consigli per dimagrire velocemente in estate Perché chi mi segue lo sa, per me più le cose sono semplici e più funzionano, vero? Infine domenica vedremo come avere gambe sgonfie e leggere anche con il caldo Beh, questa è una settimana interessante, mi piace Grazie! E se piace anche a voi amici, aiutatemi a fare crescere il canale Mettete un bel mi piace a questo video Tanti mi piace, tanti nuovi video Ora una notizia speciale, un gossip diciamo Uhuh, questo mi intriga molto Questa settimana sono in vacanza, o meglio Ho organizzato una vacanza, come ho spiegato in questo video E se volete vedere cosa succede, cosa facciamo, di cosa parlo Potete farlo dalla mia pagina di Facebook Trovate il link in descrizione Mi sarebbe tanto piaciuto venire, ma non ho le ferie in questi giorni Capisco, ma organizzo diversi soggiorni durante l'anno Continuate a seguirmi e tenetevi aggiornati A proposito di viaggi, a settembre parto per l'India, ve l'ho detto Con un bel gruppo di persone Bello, Simona Ma i tuoi video? Sì, l'India è sempre un'esperienza speciale Comunque, per i video non vi preoccupate Continueremo a stare insieme E in più cercherò di postare altri video extra con il meglio del viaggio Ora condividete questo video Fate conoscere il canale anche ai vostri amici Così anche loro saranno trendy e sani con Simona Vignali Ma naturalmente Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! È meno male I've been loving you the best I can, the best I can E mi toby Conoscere il canale anche ai vostri amici Ma naturalmente Comune